Siamo a Pessano con Bornago in provincia di Milano e siamo nel 62esimo supermercato 2 appena aperto. Ci troviamo nel reparto Cantina e Vini dove nel concetto della facilità del fare la spesa è stata predisposta questa nuova esposizione delle merceologie. In particolare del vino facilitando quindi la scelta al consumatore evidenziando quindi il vino non tanto per regione come di solito viene appunto fatto ma per fasce di prezzo. Fino a 3 euro quindi per tipicamente un vino per cucinare. Dopodiché ci sono le mezze bottiglie e gli spumanti caratterizzati ovviamente da fasce di prezzo di ampia visione nonché dei grandi vini tipicamente italiani. Tra le ultime novità dell'offerta dei supermercati U2 troviamo il pane fresco in offerta self-service. Il consumatore ha la possibilità di scegliere tra le varie tipologie dell'offerta in modo anche più gratificante e sfizioso i freschi salati che vengono offerti quotidianamente. Tra le ultime novità dell'aspetto ecologico portato avanti dall'insegna troviamo l'acqua minerale a marchio privato Uconfronte a risparmia della Fonte Presolana dove presenta un nuovo pack del fardello invisibile. Questo permette un risparmio di circa 400 camion di plastica da smaltire ogni anno nonché ovviamente un risparmio energetico grazie alla mancanza della termofilmatura e quindi al consumo energetico che ne consegue. Questo tipo di innovazione è stata apprezzata dal nostro cliente in quanto abbiamo rilevato dal lancio ad oggi un aumento delle vendite di circa il 60%. Tra gli accorgimenti ecologici che vengono adottati negli ultimi supermercati in ristrutturazione ci sono tra le novità il fatto di implementare i banchi frigoriferi a self-service con Ante. Questo che ovviamente hanno una serie di riflessi positivi sia sull'aspetto ecologico perché rispetto al consumo medio di un banco aperto permettono un risparmio energetico di oltre il 50% e grazie anche al fatto che quindi il consumatore può come dire girare all'interno dell'area tipicamente dedicata ai freschi in un ambiente molto più gradevole. In termini di offerta i supermercati O2 permettono una spesa come dire bipolare in quanto oltre ad offrire i classici prodotti dell'industria permettono un risparmio importante laddove si segue un percorso che noi chiamiamo un confronto a risparmia che sono i prodotti a marchio nonché ovviamente l'offerta di un top di gamma a marco privato che si chiama il Viaggiato Orgoloso grazie quindi a un'offerta molto mirata, a un'esposizione particolarmente razionale nonché appunto alla linea Viaggiato Orgoloso che permette invece di gratificarsi nell'acquisto la catena O2 ha raggiunto una quota di mercato delle marche private superiore al 35%. Grazie a tutti